Una grande gara, la gara perfetta. Sì, la cavalla era in forma, ha saltato molto bene il primo giro, è una cavalla sempre molto positiva, con probabilmente tante gare. Diciamo che magari per lei oggi era già una gara abbastanza impegnativa, normalmente l'alterno la uso in gare un po' più facili, anche essendo di statura molto piccola. Però oggi era in forma e il barrage era molto adatto a lei. Quando ho visto il barrage, già prima di partire ci contavo molto, era un barrage molto adatto a lei. E quando hai capito invece che avresti vinto? Quando ho visto il cronometro che ho finito il percorso ho capito che non si poteva fare meno. Che mi dedica a particolare? Beh no, la dedico al proprietario della cavalla, al mio socio. Oggi ho fatto la gara più piccola col cavallo che è molto meglio in Gran Premio, il Joyo, che l'anno scorso era arrivato quarto, aveva saltato bene. Domani riposa, monto ancora l'Ovafer nella gara a tempo e domenica non monto lei perché poi mercoledì parte per il Brasile. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.